A proposito di body percussion e quindi a proposito di tutti quei suoni, quei ritmi che possiamo fare con il corpo, hai mai provato a studiare in maniera seriamente divertente questo meraviglioso strumento che tutti abbiamo a disposizione? Ma prima ancora ti sei mai chiesto quante sono e quali sono le possibilità espressive del nostro corpo anche dal punto di vista musicale, che possiamo imparare a sperimentare insieme e a condividere con gli altri attraverso tutta una serie di attività dinamiche, creativi, divertenti, legati alla musica, al ritmo e al movimento? Qual è la tecnica per poter suonare il corpo in maniera corretta? Come si fa ad inventare tanti tipi di versi di ritmo? Come si fa ad inventare quei giochi che scatenano l'entusiasmo di tutti, bambini e grandi, attraverso i quali si può imparare la musica anche senza averla mai studiata? Come si compongono e come si scrivono brani per la body percussion da proporre a scuola e in altri contesti creativi? Come si fa a costruire e ad inventare quelle coreografie ritmiche utilizzando non soltanto il corpo ma anche altro materiale sonoro? Oggetti, strumenti diversi con cui suonare e disegnare ritmo e musica nello spazio? In sostanza, come può il nostro corpo diventare protagonista di una bellissima, divertente e straordinaria esperienza creativa? Tutto questo e molto altro lo vivremo insieme durante i nuovi corsi di formazione sulla body percussion, suoni e ritmi con tutto il corpo. I corsi sono riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e stanno per ricominciare. Le iscrizioni sono a numero chiuso, troverai tutte le informazioni sul mio sito, sulla piattaforma Sofia e anche al link che ti lascio in descrizione. Ti aspetto! I corsi sono riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Merito! Grazie a tutti